pace bene cari fratelli e sorelle bentrovati questa trentesima domenica ci accompagna a riscoprire il centro della volontà di dio e in fondo il senso profondo della nostra vita che è l'amore in questa riflessione vi propongo tre passaggi anzitutto ci soffermeremo sull'amore come realtà che abbraccia tutto e tutti quindi cosa significa amare dio con tutto il cuore l'anima e le forze infine amare il prossimo come noi stessi ecco immergiamoci nel testo primo punto uno scriba va da gesù per metterlo alla prova e gli fa una domanda maestro nella legge qual è il grande comandamento gesù risponde con due testi dell'antico testamento che erano al centro della spiritualità di israele deuteronomio 6 4 8 amerà il signore dio tuo con tutto il cuore con tutta l'anima con tutte le tue forze e levitico 19 18 ama il prossimo tuo come te stesso la novità sta nel fatto che gesù li unisce mettendoli dunque al centro di tutto collocandoli proprio insieme sullo stesso piano gesù sradica scardina ogni forma di legalismo gesù non vuole presentarci due precetti fondamentali a seguire per mettersi in pace con dio e sentirsi in regola ma ci offre la prospettiva di fondo con cui vivere il comandamento dell'amore a dio e al prossimo e dunque il primo non perché sta in cima gesù non lo mette al vertice ci ha detto il papa ma al centro perché il cuore da cui deve partire tutto e a cui tutto deve ritornare e fare riferimento già nell'antico testamento l'esigenza di essere santi ad immagine di dio che è santo comprendeva anche il dovere di prendersi cura degli altri dei deboli dello straniero l'orfano la vedova ecco potremmo dire che l'amore è il termometro della fede l'amore è la misura della fede e la fede è l'anima dell'amore non possiamo più separare la vita religiosa la vita di pietà dal servizio dei fratelli a quei fratelli concreti che incontriamo non possiamo più dividere la preghiera l'incontro con dio nei sacramenti dall'ascolto dell'altro dalla cura dell'altro specie delle sue ferite ricordiamoci bene questo l'amore è la misura della fede quanto ami tu ognuno dia la sua risposta com'è la tua fede la mia fede è come io amo secondo passaggio gesù come primo comandamento cita amare dio con tutto il cuore con tutta l'anima e con tutta la mente vuol dire con tutto se stessi quindi esprime una unificazione interiore cioè io il signore sono chiamato ad amarlo con tutto me stesso non soltanto facendo delle cose per lui ma amandolo anche con i miei affetti amandolo rivolgendogli il mio pensiero amandolo volendo fare concretamente la sua santa volontà un amore che coinvolge tutto il mio essere e unifica in fondo tutto il mio essere potremmo dire dimensione affettiva intellettiva e volitiva affettiva cioè avere affetto avere a cuore signore volergli bene anche quando preghiamo è bello non solo rivolgergli un pensiero ma anche muovere l'affetto verso di lui è così la dimensione intellettiva cercarlo pensarlo avere a cuore di far la sua volontà e la dimensione volitiva cioè volerlo amare voler corrispondere a lui voler fare ciò che lui ci chiede ecco chiara lubi che in modo molto bello diceva cosa significa proprio amare dio con tutto il cuore l'anima la propria mente e diceva il nostro atteggiamento verso dio come quello di gesù sarà sempre quello di essere rivolti verso il padre in ascolto di lui in obbedienza per compiere la sua opera e non altro ci è chiesta in questo la più grande radicalità perché dio non si può dare meno di tutto tutto il cuore tutta l'anima tutta la mente e ciò significa fare bene per intero quell'azione che lui ci chiede parlare telefonare ascoltare aiutare studiare pregare mangiare dormire vivere la sua volontà senza divagare fare azioni intere pulite perfette con tutto il cuore l'anima la mente avere come unico movente di ogni nostra azione l'amore così da poter dire in ogni momento della giornata sì mio dio in quest'attimo in quest'azione tu amato con tutto il cuore con tutto me stesso solo così potremmo dire che amiamo dio e che contraccambiamo il suo essere amore nei nostri confronti e guardate più amiamo il signore più l'amore si purifica mettendo l'amore di dio in mezzo all'amicizia l'affetto ad esempio si depura si ingrandisce si spiritualizza diceva san jose scriva perché si bruciano le scorie i punti di vista egoistici le considerazioni eccessivamente carnali non dimenticarlo l'amore di dio mette ordine ai nostri affetti li rende più puri senza diminuirli anzi ampliandoli questo è anche un criterio molto bello nel cammino di discernimento cioè chiederci come posso servire meglio amare di più nostro signore gesù e diventa la spinta della nostra vita cercarlo e amarlo in tutto ciò che facciamo terzo passaggio ama il prossimo tuo come te stesso anzitutto siamo chiamati ad amare il nostro prossimo e chi è il nostro prossimo ma il nostro prossimo è ogni essere umano uomo donna amico o nemico e amarlo vuol dire volergli bene e donarsi per il suo vero bene abbraccia quindi anche qui una dimensione interiore ed esteriore il signore poi rimarca il fatto di amarlo come se stessi innanzitutto va preso proprio alla lettera cioè occorre vedere nell'altro un altro se e fare all'altro quello che si farebbe a se stessi vuol dire avere cura dell'altro come se avessimo cura di noi stessi noi a volte tendiamo a non fare così ma usare due pesi due misure tante volte vi faccio un esempio spicciolo se noi commettiamo un errore banalizziamo se la stessa cosa la fa chi abbiamo accanto gli piantiamo i chiodi protestiamo rimproveriamo rimbrottiamo e via dicendo ma cosa significa amare se stessi vuol dire sapersi accogliere come dono volersi bene avere la giusta cura di sé a questo punto la domanda sorge spontanea e cioè e se io non mi amo come posso amare il mio prossimo beh se uno non si ama sarà quantomeno difficile che riesca ad amare fino in fondo il suo prossimo vi faccio due esempi per capire se io ho poca autostima sarà ben difficile che io riesca a stimare ad elevare a incoraggiare ad apprezzare chi ho vicino quantomeno interiormente vivrò una dura lotta oppure se io coltivo dei sensi di colpa ad esempio dopo un errore oppure dopo che non sono stato all'altezza e ce l'ho con me stesso spesso e volentieri la faccio pagare a chi ho accanto riversando su di lui ciò che in me non va ecco questa parola ci richiama ad un altro aspetto bellissimo che è amare noi stessi un esperto di relazioni interpersonali henry sullivan afferma che si ama una persona quando la sua felicità la sua sicurezza il suo sentirsi bene ci stanno a cuore come o più delle nostre la tesi evidente diceva john powell un bravo sacerdote gesuita è che io abbia a cuore la mia felicità e la mia sicurezza il mio star bene infatti nella misura in cui non riesco ad amare me stesso sarò incapace ad amare gli altri e chi è che mi fa scoprire profondamente amabile e amato ecco il nostro rapporto con il signore ecco la sua parola che ci rivela quanto siamo preziosi e amati creati a sua immagine e somiglianza unici e irripetibili addirittura dice la scrittura disegnati sul palmo delle sue mani amati di amore eterno ecco la sua presenza in noi lui che è amore folle grande immenso personale per ciascuno di noi sì miei cari perché in conclusione noi abbiamo detto come l'amore sia una realtà totalizzante unificante cosa significa amare dio l'importanza di amare il prossimo e noi stessi ma non dimentichiamo che tutto questo è la risposta a un amore gratuito che ci è venuto e ci viene incontro prima del nostro amore per gli altri prima del nostro essere chiamati ad amare dio il prossimo c'è l'amore che dio ha per ognuno di noi e il suo amore è lui stesso la sua presenza in noi che ci rende capaci di amare in fondo in noi la forza di amare e suscita in noi il desiderio di amare gli altri qui infatti non si parla di un amore qualsiasi qui si parla di un amore pieno totale che in fondo è l'amore che dio ha per ognuno di noi che ci chiama a riversare sugli altri uscendo da noi stessi che ci chiama a ricambiare nei suoi confronti lasciandoci muovere dallo spirito santo nel cuore io posso amarmi perché sono amato io posso amare chi ho accanto perché continuamente ho un cuore innestato nell'amore ho un cuore attaccato alla sorgente dell'amore che è dio stesso ecco perché si parte dall'invocare lo spirito santo che l'amore che unisce padre figlio invocarlo perché perché nostro cuore diventi più capace di amare di amare dio e gli altri concludo con le parole di papa francesco in mezzo alla fitta selva di precetti e prescrizioni gesù opera uno squarcio che permette di scorgere due volti il volto del padre e quello del fratello non ci consegna due formule o due precetti ci consegna due volti anzi un solo volto quello di dio che si riflette in tanti volti perché nel volto di ogni fratello specialmente il più piccolo fragile indifeso e bisognoso è presente l'immagine stessa di dio chiediamo dunque la grazia al signore che ci aiuti ad amare come lui ci ama che il buon dio vi benedica tutti pace e bene